In studio, Veronica Puglisi. Buonasera a tutti, in apertura di questa edizione le novità riguardante l'omicidio Lucifora, assolto per non aver commesso il fatto, è stata disposta la scarcerazione immediata per Davide Corallo all'epoca dei fatti carabiniere, accusato di avere ucciso il cuoco modicano Peppe Lucifora il 10 novembre del 2019 per motivi passionali. Lo ha deciso la corte d'assise di Siracusa, davanti alla quale Corallo era a giudizio con rito abbreviato, condizionato. Assolto e scarcerato Davide Corallo, il carabiniere accusato dell'omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora i fatti il 10 novembre del 2019 quando il corpo senza vita del modicano, noto per il suo forte attaccamento alle feste religiose, in cui sfoggiava look caratteristici e ruoli di primo ordine, fu trovato nel suo appartamento di largo 11 febbraio nel quartiere d'ente della città di Modica. Era stata un'amica e collega a lanciare l'allarme non vedendola arrivare ad un appuntamento di lavoro. Non si conoscono le scelte del giudice, si dovrà attendere 30 giorni per conoscere le motivazioni che hanno portato alla sentenza che lascia senza parole la famiglia, attoniti i familiari che non hanno voluto commentare. L'avvocato Galfo rimanda tutto alla lettura delle motivazioni, solo allora si potrà capire e pronunciare ciò che appare quasi certo e il ricorso ad una sentenza definita inaspettata anche a fronte della richiesta del pubblico ministero Francesco Riccio che aveva chiesto 16 anni. La soluzione potrebbe essere scaturita dalla perizia d'ufficio che confermava i rilievi del RIS di Messina ad eccezione della possibilità di poter datare la traccia che ha incastrato Davide Coralle in una prima fase. Il suo DNA unito al sangue di Peppe Lucifora nel lavandino del bagno di casa. Questa la traccia a cui ci riferiamo. Nella scena del crimine infatti furono trovate 12 tracce di soggetti campionate. Il DNA di Corallo però era stato repertato nel lavandino di casa unito a delle tracce di sangue appartenenti a Peppe Lucifora. Per essere cancellate quelle tracce avrebbero dovuto affrontare diversi minuti di acqua corrente. Corallo ha riferito di essere stato nell'abitazione di Lucifora il 24 ottobre, diversi giorni prima rispetto il 10 di novembre. Da capire come il suo DNA unito al sangue di Peppe Lucifora abbia resistito all'acqua e ai detergenti per diversi giorni. Spiegazioni di cui si avrà lettura nel volgere di poche settimane. Intanto Davide Corallo torna in libertà dopo oltre 600 giorni di carcere. Soddisfazione è stata espressa dai suoi illegali difensori, l'avvocato Tomasello e l'avvocato Lo Giudice. Beni per 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA di Catania all'imprenditore Giovanni Donzelli attivo nel settore del recupero e della trasformazione di materiale plastiche nella provincia di Ragusa ritenuto vicino all'organizzazione mafiosa della stida attiva nel Vittoriesi. Ammontano a 5 milioni di euro i beni confiscati a Giovanni Donzelli, imprenditore ragusano, nel settore del recupero e della trasformazione di materie plastiche nella provincia ebrea. Il decreto è stato emesso dalla Procura di Catania e dalla DIA, sezione di prevenzione del Tribunale. I giudici hanno valutato gli elementi nella proposta ritenendo sussistenti sia la pericolosità sociale dell'uomo, ritenuto contiguo alla stida, operande nel territorio vittoriese, sin dagli anni 90 e sia la sproporzione tra i redditi denunciati al fisco e i beni accumulati. Le indagini hanno tenuto conto anche delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che avevano chiarito come Donzelli avesse implementato i propri affari e il proprio patrimonio reimpiegando i proventi delle estorsioni del gruppo criminale di appartenenza che, colpito da numerose operazioni di pulizia e disarticolato da altrettante sentenze di condanna, aveva affidato il proprio capitale a persone insospettabili affinché lo reinvestissero in attività economiche apparentemente lecite. La figura dell'imprenditore, già condannato con sentenza definitiva nel 1994 dalla Corte d'Assise di Siracusa alla pena di quattro anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa, riemersa in seguito nell'ambito di successive indagini della Procura Etnea, la prima culminata nel 2015 con l'arresto di 17 persone ritenute appartenenti al clan mafioso operante nella provincia ragusana e responsabili, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso pluriaggravata, finalizzata alla commissione di estorsioni in danno ad operatori economici e esercenti, la raccolta di materiale plastico dismesso dai serricoltori, nonché di traffico illecito, di rifiuti e detenzione e porto di armi comuni da sparo. La seconda operazione, nell'ottobre del 2019, nell'ambito della quale vennero eseguite misure cautelari nei confronti di 14 persone responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso pluriaggravata, finalizzata alla gestione di rifiuti non autorizzata e per trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante del metodo mafioso. Un nuovo filone della cosiddetta truffa e l'assicurazione degli spacca osso a Palermo, la Polizia di Stato ha fermato 8 persone per presunta associazione criminale responsabile di una serie di truffe a numerose compagnie assicurative relative a falsi incidenti, 23 persone invece risultano indagate. La Polizia di Stato di Palermo ha smantellato un'associazione criminale dedita alle frodi in danno a numerose compagnie di assicurazione. Il blitz ha coinvolto anche le province di Novara, Torino, Vercelli, Milano e Varese. 31 le persone coinvolte, di cui 8 risultate destinatari del decreto di fermo e decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo e 23 destinatari dell'informazione di garanzia e contestuale informazione sul diritto di difesa della persona sottoposta a indagini. Gli 8 destinatari del provvedimento di fermo sono stati sottoposti a indagini perché si ipotizza al loro carico il coinvolgimento a vario titolo in un'associazione criminale che tra il 2017 e il 2020 si sarebbe resa responsabile di una serie di frodi in danno a numerose compagnie di assicurazione, come falsi incidenti stradali in cui quasi tutte le vittime denunciavano di essere state investite mentre percorrevano le vie cittadine in sella a biciclette. Il giro d'affare delle truffe sarebbe superiore ad alcuni milioni di euro che la compagnia assicurativa corrispondeva a titolo di risarcimento per le gravi lesioni riportate dei denuncianti. A capo dell'associazione criminale i pregiudicati Vincenzo Maccarrone, Giuseppe Zizza e Matteo Corrao. Le indagini del commissariato di Brancaccio sono iniziate nell'aprile del 2020 quando presso l'ufficio postale Acqua dei Corsari a Palermo veniva indagato in stato di libertà un uomo trovato in possesso di una carta di identità contraffatta appena utilizzata nel tentativo di aprire un conto corrente. In quel contesto si scopriva che un'altra analoga operazione di apertura di un conto corrente veniva portata a termine da un altro indagato che aveva già presentato un documento ma questa volta autentico. Da quel momento le investigazioni sono proseguite con acquisizione di documentazioni varie ma soprattutto con attività tecniche di intercettazione. Inoltre 15 persone tra i 31 indagati sono stati segnalati al competente giudice in quanto percettori del reddito di cittadinanza al fine di valutare la sospensione immediata del beneficio. Al termine delle attività sono stati condotti presso le strutture carcerarie più vicine. Per Vincenzo Maccarrone e Giuseppe Zizza è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, per Matteo Corrao quella dei domiciliari. Per altri due indagati la misura cautelare dell'obbligo della presentazione all'APG, altri tre invece sono stati rimessi in libertà. Gli inquirenti precisano che i destinatari di misura restrittiva sono allo Stato indiziati in merito ai reati contestati e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l'emissione di un'eventuale sentenza passata e ingiudicato in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza. Maltrattava e minacciava la madre tentando di essorcerle denaro per acquistare la droga. Un 22enne di Bronte è stato arrestato dai carabinieri, è stata la madre una 55enne in occasione dell'ultimo violento episodio ad allertare il 112. Prima o poi l'ammazzo, stasera mi faccio attaccare. Queste le minacce di un 22enne di Bronte nonostante la presenza dei carabinieri sopraggiunti nella loro abitazione dove hanno trovato la madre con evidenti segni di violenza sul volto e il giovane uscito dalla cucina non ha desistito nonostante la presenza dei militari dal proferire minacce gravi nei confronti della madre. Ed era stata proprio lei una 55enne di Bronte a telefonare al 112 riferendo di essere stata aggredita dal figlio all'interno della propria casa. I militari una volta sul posto hanno riscontrato anche il danneggiamento di numerosi suppellettili dentro la casa verisibilmente ad opera del 22enne. La donna amareggiata e ancora scossa per l'accaduto ha poi raccontato ai militari che l'aggressione di cui era stata vittima sarebbe l'ultima in ordine temporale di numerosi altri episodi minacciosi e violenti e che avrebbe subito con cadenza settimanale da circa sette anni e con l'intervento delle forze dell'ordine in almeno due tra i tanti episodi. Le violenze fisiche e le pressioni psicologiche subite nel corso degli anni dalla donna sarebbero causate dalle continue richieste da parte del figlio di somme di denaro che poi il giovane utilizzerebbe per acquistare sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione il 22enne che espletate le formalità di rito è stato associato su disposizione dell'autorità giudiziaria al carcere catanese di piazza Lanza fino all'esito dell'udienza di convalida. E di 23 denunce il bilancio dei controlli dei carabinieri nel quartiere Librino di Catania ispezionati interi caseggiati per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alle reti pubbliche di servizi denunciati per furto aggravato 21 persone se di queste avrebbero realizzato abusivamente oltre all'allaccio alla rete elettrica anche quello alla rete idrica tre di questi fruitori totali sono stati denunciati per aver occupato abusivamente due locali dell'OIACP di Catania una 35enne di Viale Moncada l'avrebbe adibita a sala da parrucchiere sempre a Librino sono stati denunciati anche il proprietario e il titolare di una ditta impegnata nei lavori di una casa in via Sanguinelli per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro dove erano impiegati anche due operai in nero. È veramente faticoso oramai lavorare in queste condizioni il personale sfinito si sente abbandonato i sindacati lanciano un appello chiedono maggiori tutele dopo l'ennesima aggressione a un agente avvenuta ieri pomeriggio a Lucciardone. Dura presa di posizione dei sindacati della polizia penitenziaria a seguito dell'ennesima aggressione nelle case circondariali. L'episodio a Palermo un agente di polizia penitenziaria del carcere Lucciardone è stato ferito ieri pomeriggio per lui dieci giorni di prognosi a causa delle ferite riportate. Un detenuto infatti lo ha aggredito in quanto l'agente gli aveva ricordato di indossare la mascherina. In quel reparto tra i 50 positivi le restrizioni sono più stringenti dunque le norme devono essere rispettate scrupolosamente. A denunciarlo i sindacati siciliani SAP e OSAP, Wilpa Polizia Penitenziaria e FNS CISL. Basta chiacchiere, dicono. Servono azioni legislative che fermino questa spirale di violenza contro la polizia penitenziaria. Nelle carceri, aggiungono, ormai c'è uno scontro giornaliero. Questo è il prezzo che si paga per il troppo pressappochismo nella gestione politica del carcere. La stagione delle chiacchiere foraggia questa deriva di violenza, aumentando il caos gestionale. Solidarietà al collega ferito con gli auguri di pronta guarigione, sperando che l'amministrazione possa punire come la legge prevede l'autore del vile gesto. Cambiamo adesso argomento, parliamo dell'attuale situazione del Covid in Sicilia perché sono 4.762 i nuovi casi positivi. Sono oltre 4.000 i nuovi casi Covid in Sicilia che si sono registrati nelle ultime 24 ore. Esattamente 4.762 a fronte di 34.268 tamponi processati. Ieri erano 1.606 i nuovi positivi. Il tasso di positività dunque sale al 13,9% rispetto a quello di ieri sera che era del 12,6%. L'isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 229.679 con un incremento di 1.433 casi. I guariti sono 3.807 mentre le vittime sono 33 e portano il totale dei decessi a 9.498. Sul fronte ospedaliero sono 1.111 ricoverati con 5 casi in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 72 con 5 casi in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le singole province, c'è Palermo 1.232 casi, Catania 849, Messina 613, Siracusa 686, Trapani 331, Ragusa 460, Caltanissetta 247, Agrigento 683 ed Enna 172. Nuova dose booster del vaccino anticovid a partire da oggi per i soggetti fragili. Parte oggi la somministrazione in tutta Italia della quarta dose destinata ai soggetti fragili. Come si legge infatti in una circolare del generale Figliolo, commissario per l'emergenza Covid, i destinatari sono i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido. Questa nuova dose booster deve essere fatta dopo aver completato il ciclo con le prime tre dosi a una distanza minima di 120 giorni. In Sicilia sono più di 33.000 i soggetti destinatari di questo richiamo. Da ieri partita anche la somministrazione del vaccino Novavax, poiché ogni flacone dà la possibilità di eseguire 10 inoculazioni, si procederà con prenotazione e accorpamenti degli appuntamenti così da non sprecare nessuna dose. Il nuovo Vax è già stato distribuito presso tutti i punti vaccinali, lo somministreremo ai cittadini come prima dose, a quei cittadini che ce ne faranno richiesta. Ovviamente dovremo mettere insieme 10 o multipli di 10 prima di somministrarlo perché si tratta di un vaccino il cui flacone contiene 10 dosi e una volta aperto devono essere somministrate tutte. I fragili, gli immunocompromessi rappresentano una platea di circa 33.000 persone alle quali se vorranno potremo somministrare la quarta dose così come suggeriscono le indicazioni del Ministero della Salute e della struttura commissariale del generale Figliolo. Occorrevano circa 300 euro per un falso Green Pass acquistato in rete con possibilità di sconti famiglia per coloro che acquistavano più certificati. È uno dei particolari che emerge dalle indagini della Polizia di Termini Imerese che hanno portato ad un maxi blitz in tutta Italia contro un'organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di false certificazioni. 25 gli indagati. Sconti per famiglie e garanzie sulla sicurezza del funzionamento del modulo. Queste le credenziali di un gruppo dedito alla falsificazione di Green Pass attivo su tutto il territorio nazionale. Ci sono anche le province siciliane di Caltanissetta, Agrigento e Palermo coinvolte nell'operazione che ha fatto luce su un giro di Green Pass falsi disposta un maxi blitz in tutto il territorio nazionale dalla procura di Termini Imerese eseguito dalla Polizia. Coinvolti anche i territori provinciali di Roma, Cremona, Aosta, Cosenza, Lucca, Bologna, Olbia, Bari, Venezia, Treviso, Mantova e Salerno. 25 le persone indagate. La piattaforma per smerciare documenti falsi al prezzo di 300 euro era Telegram attraverso perquisizioni che hanno portato al sequestro di una trentina di dispositivi informatici all'interno dei quali i certificati erano conservati in formato digitale e emerso dalle indagini come i venditori rilasciassero un certificato rafforzato di terza dose personalizzato. Prima dunque la richiesta della copia della tessera sanitaria a fronte del pagamento di circa 300 euro, solitamente in criptovaluta, e poi la lavorazione e l'invio del certificato. C'erano anche sconti di famiglia per coloro che acquistassero più certificati in una unica soluzione. Le indagini sono ancora in corso al vaio degli investigatori. Si trovano adesso anche i dispositivi telefonici e alcuni conti correnti italiani utilizzati per far transitare i pagamenti per l'acquisto dei falsi Green Pass. E adesso voltiamo pagina. Per la pace e per il sostegno al popolo ucraino è stato dato vita ad un flash mob a Modica da parte di un gruppo di donne che hanno figli e nipoti al fronte per difendere il governo e il popolo di Zelensky. Ni, vi, ni, no alla guerra. Alle mie spalle un gruppo di ucraini che vivono a Modica e questo il loro grido al mondo. Vogliono veramente la pace. Pensano ai loro figli ma anche alle loro figlie che sono al fronte arruolate anche volontariamente nell'esercito per difendere la propria nazione. Vogliamo libertà nostra Ucraina, vogliamo pace. Io chiedo da tutte le mamme di Russia prendete i suoi figli e ritornate a casa. Olga, tu sei nata in Russia ma hai vissuto in Crimea, no? In Crimea, io ho nata in Crimea, però ora in Crimea russa. E tua nipote di 19 anni ha imbracciato un mitra, si è arruolato nell'esercito per difendere l'Ucraina. Sì, lui ora è in militare di Ucraina, lui ora fa guardia di nostra Presidente, città capitale Kiev. Quanti dei tuoi nipoti, ci sono anche i tuoi figli arruolati nell'esercito? Mio figlio ha 36 anni anche militare per combattere questa guerra a nostra città, Micale. Questi giorni sempre dormiamo con mano di, diciamo, dormiamo, con mano in telefono, come tutte le mamme quelle, sempre in telefono. In questo momento dove si trova, dove sta combattendo? Mio figlio io non posso sentire perché questa troppo pericolosa, soltanto messaggi, due o tre parole, mamma sono viva, sono sano. Ci sono molte donne che in Ucraina stanno anche combattendo, imbracciano fucili, mitra, tutto quello che può servire per la difesa del popolo ucraino, quindi anche le donne in prima linea. Da 2014 nostre donne fanno combattere questa guerra come uomini. Mio paese si chiama Sume, non riuscite a scappare nessuno, due nipotini, figlie, nora, tutti scappati in bosco e abitano adesso in una casa abbandonata, senza riscaldamento, senza acqua, senza luci. Secondo voi come finirà? Io non credo che trovano d'accordo, io non credo, perché Lukashenko, scusate non voglio parlare di politica, popolo belorusso, mia suocera è belorussa, mio marito ha due fratelli militari che lavorano a Mosca, immaginate, in una famiglia di dieci persone siamo un belorusso, tre ucraini e tre russe, come si può. Avete perso la casa o avete avuto danni alle vostre cose? Non sappiamo niente. Mio figlio oppure il militare, non lo so dove, cosa sta succedendo. Per dare un aiuto raccogliamo un po' di cose per mandare lì, perché là è un casino, se da qualcuno si può dare un aiuto per portare un camion, per portare là vicino a Polonia, almeno in Polonia. Poi da Polonia ci sono le persone che fanno partire questa tutta merce. Nivi, 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 nivi. Ne sarei felicissimo, noi siamo pronti a fare la nostra parte, viviamo un momento drammatico e nessuno può tirarsi indietro. Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, si dice favorevole alla riapertura dei cancelli del Cara, questa volta però per accogliere i profughi ucraini. Il complesso, esteso per 25 ettari da luglio del 2019, è vuoto. Non sono mai stato contrario all'accoglienza dei migranti, ma al loro sfruttamento, dice il sindaco, che aggiunge, adesso siamo davanti a una situazione totalmente diversa, è una crisi umanitaria scoppiata nel cuore dell'Europa che richiede l'impegno di ciascuno di noi. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Una raccolta fondi è stata promossa da Croce Rossa Italiana per aiutare le popolazioni dell'Ucraina. La situazione è difficile, come ci racconta il vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, che spiega come siano necessari molti beni che verranno acquistati direttamente in Ucraina grazie ai soldi delle donazioni. Mancanza di acqua, cibo, elettricità e assistenza sanitaria colpiscono centinaia di migliaia di persone. E' questa la situazione drammatica in Ucraina. Per aiutare la popolazione è stato attivato un numero solidale 45525 per una raccolta fondi lanciata da Croce Rossa Italiana, UNHCR Unicef, per rispondere con la massima tempestività alla grave emergenza in corso. In non soli due giorni la campagna di raccolta fondi ha permesso di raccogliere un milione di euro. Si può donare anche attraverso il sito della Croce Rossa Italiana, così come ci spiega il vicepresidente nazionale Rosario Valastro. Abbiamo messo in moto la nostra macchina, pronti in caso di arrivo di persone, ma abbiamo anche deciso di dare manforte aiuto alle altre società nazionali di Croce Rossa che sono lì sul campo per poter dare quello che serve alle persone. Quindi dall'acqua al cibo, alle coperte, a un minimo di supporto psicosociale. Per far questo abbiamo promosso una raccolta fondi, che è visibile sul nostro sito www.cri.it. Dare dei fondi ci consente di acquistare direttamente in nuovo quello che serve. I vostri colleghi che si trovano in Ucraina, cosa vi raccontano? Che situazione vi stanno comunicando? La situazione è abbastanza seria. C'è stato un reclutamento importante di volontario in Ucraina. Quello che comunque rimane è che scastergiano proprio i beni primari. E questo chiaramente nel momento in cui c'è un intervento militare che chiude intere città, è una questione difficile da poter affrontare. Per il resto si può essere pronti a vedere se dovremo fare la nostra parte, come certamente faremo nel caso in cui ci sarà arrivo di persone ucraine in Italia. Un'altra maniera per poter aiutare tutte le persone ucraine che conosciamo, che magari sono in pensiero perché non sentono i loro cari, i loro amici, i loro parenti, è quello di legarci al comitato di Croce Rossa più vicino e chiedere di metterli in contatto in qualche maniera con i parenti nelle zone dell'Ucraina. E in tanti hanno accolto l'iniziativa per la raccolta di beni di prima necessità destinati all'Ucraina al centro di ammassamento della protezione civile comunale nell'area artigianale di Modica. Da questa mattina, da ancora prima che aprissero i cancelli, il centro di ammassamento della protezione civile comunale di Modica nella zona artigianale è stato un via vai di persone che hanno deciso di contribuire nel donare beni di prima necessità destinati all'Ucraina. Cosa ha portato? Da mangiare, soprattutto alimenti per bambini, omogenizzati, pannolini, latte. Io ho portato biscotti e scatolate. Non è nulla in confronto a quello, è il problema serio che c'è, quindi non ci sono parole. Non solo privati, c'è chi ha anche una ditta e fornisce dei prodotti. In questo caso cosa c'è? Sì, abbiamo delle calzature per donna, uomo e bambino. Stiamo donando, ecco, visto l'esigenza e la situazione, diamo una mano a chi è in difficoltà. Ecco, queste sono solo alcune delle buste e degli scatoloni che in parte sono stati già catalogati dai volontari della protezione civile. Un gesto solidale, un gesto simbolico per far sentire la vicinanza a chi soffre in questo momento. Con tanta cura tu stavi segnando. Sto aprendo piano piano tutte le buste e conteggiando tutti i maglioni, i vandaloni. Questi beni verranno collocati su un mezzo che partirà alla volta della Polonia, dove sono stati allestiti i campi profughi per portare loro tutta la merce raccolta. Giungeranno all'Ucraina tramite una delegazione ucraina qui a Modica, con cui ho avuto già dei contatti, e sono stati loro stessi a chiedere determinate precisazioni sui prodotti che si possono mandare in Ucraina. Riguardo questo si possono portare specifiche prodotti a lunga scadenza, quindi in scatola, latte in polvere, dei medicinali come tachipirina, antibiotico, qualunque cosa sia per l'utilizzo delle persone, ma con lunga scadenza. Il Gruppo Comunale della Protezione Civile di Modica ringrazia tutti i cittadini che hanno aderito all'iniziativa al momento organizzata solo per oggi, ma non si esclude che in futuro possano essere attivate altre iniziative simili. Anche il Teatro Biondo di Palermo aderisce all'iniziativa simbolica lanciata da Andrea De Rosa, direttore del Teatro Piemonte Europa. Ogni rappresentazione teatrale sarà preceduta dal suono di una sirena d'allarme, seguito da un messaggio di solidarietà con il popolo ucraino, un modo per sensibilizzare sul dramma vissuto dalla popolazione ucraina. E nel difficile momento che stiamo vivendo tra la pandemia e la guerra in Ucraina, i più piccoli cercano di tornare un po' alla normalità attraverso i festeggiamenti del Carnevale. Con il Marte di Grasso si chiudono i giorni grassi di Carnevale. Sono soprattutto i bambini ad amare questa festa perché possono trasformarsi indossando gli abiti dei supereroi preferiti o dei propri idoli. E poi ci si diverte tirando coriandoli e stelle filanti. Come sei vestito? Sei pirata. Me l'ha tombolata mia mamma. Festeggi il Carnevale? Sì. Cosa si fa? Allora è bello anche perché si mangiano le chiacchiere e poi si portano i bambini alla villa, vestiti di Carnevale. Che vestito chiedono di più? Ma quelli della Disney, quindi c'è Paperino, Topolino e poi anche i vestiti tipo le femminucce di una volta, quindi di Cenerentola. E ancora vengono richiesti tanto? Sì, sono molti, molti. La coriandola va bene quest'anno. E' la cosa che piace di più ai bambini? Sì, coriandola, stelle filanti, mattelli, palloncini, un po' di tutto. Quale personaggio ti piace di più? Come ti vorresti vestire? Dai, Romain! Con il martedì si concludono le festività legate al Carnevale da domani, infatti scatta la Quaresima. Si chiama Martedì Grasso perché era abitudine consumare in questo giorno gli ultimi cibi gustosi e succolenti, quelli grassi appunto, rimasti in dispensa come dolci tipici del periodo. In Sicilia tante le golosità da gustare. La tradizione che ogni anno si ripete, e sono i dolci che le persone cercano in queste giornate, anche per trovare un momento di allegria. In questo Carnevale non sappiamo come ce l'abbiamo. E comunque parliamo delle nostre chiacchiere, che è il dolce in assoluto che si mangia in questi giorni. Abbiamo anche le varianti, col cioccolato, col pistacchio. Facciamo anche degli struffoli, che sono la stessa pasta delle chiacchiere, proprio fatte, inzuppate nel miele e con della buccia d'arancio. Poi abbiamo delle mascherine per i bambini, per cercare di creare un po' di allegria. E' un mascherine di due tipi, tipi così col cioccolato o con un ripieno croccante. E con questo servizio è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per averci seguito e buona serata.